Allora, per la categoria, dilettanti 2, over 40, specialità in ball dance, prima classificata, Cizia Bertolucci. Mi sei tolta le scarpe, eh, Borgognova? Non le fatevi più. Mi sembravano scomodine. Continuiamo con la categoria, dilettanti 1, over 40, terza classificata, Ilaria Liotta. Seconda classificata, Milena Mameli. Categoria, dilettanti 1, over 40, prima classificata, Cizia Marconcini. Approfitto per ricordare anche a voi della pole dance che le classifiche usciranno sul sito www.polentariaxen.it dietro una decina di giorni con tutti i punteggi parziali dati dagli ufficiali di gara. Così non devo inviarvi 650 schede di valutazione per 5. Tanto hanno segnato i suoi punti. Perciò voi vedrete tutte le colonne per di ogni ufficiale di gara, che cosa vi ha tolto, che cosa vi ha messo, che cosa vi ha attribuito. Con una leggenda, per chi non conosce bene il regolamento, dove spiediamo le nostre abbreviazioni. Quindi cosa vuol dire LP, cosa vuol dire TR. E sarà semplice per voi, anche con un pdf, cercare i nomi di tutti gli atleti e poi capire che cosa hanno ottenuto in gara. Io vi ringrazio intanto, ragazze siete state tutte favolose. E grazie per essere venute al campionato.